In questo video ti spiegherò la formula per trovare la casa dei tuoi sogni in una buona zona e a prezzi accessibili. Questo incanto ti indirizza attraverso sensazioni, percezioni e vibrazioni a cercare nel posto giusto la casa dei tuoi sogni. Naturalmente se esiste, altrimenti la più simile a ciò che si cerca. A prezzi accessibili per le tue tasche. Il tempo di realizzazione non può essere immediato perché occorre prendere contatti, andare a visitare eccetera, quindi ha tre stelline come grado di difficoltà e prevede una ripetizione costante per molto tempo. Ti ricordo inoltre che puoi trovare la spiegazione completa delle parole magiche cliccando qui sopra sulla tendina oppure trovando il link del video qui sotto in descrizione. Queste parole magiche sono state tratte dai libri di Cristiano Tenka di cui ho inserito i link sempre qui sotto in descrizione. Iniziamo! Perfect Domum Acquiso Perfect Domum Acquiso Perfect Domum Acquiso